Il castello Waidanyad è una copia parziale di quello in Transilvania, oggi ospite il museo agricolo, venne inizialmente creato in legno e carta nel 1896 in occasione dei festeggiamenti per i mille anni della fondazione dell'Ungheria, divenne talmente popolare da spingere poi alla costruzione in pietre e mattoni e oggi è visitato in entrando nel parco cittadino. Egeviatibus sempre a disposizione per qualsiasi notizia sulle vostre destinazioni, sui viaggi su misura. Grazie a tutti.